Le voci erano iniziate a trapelare già nel post partita con la Feralpi Salò e in poche ore è arrivata l'ufficialità. Dopo sette anni Simone Iocolano lascia il Bassano Virtus ad annunciarlo la stessa società giallorossa con uno scarno comunicato in cui annuncia di aver raggiunto l'accordo con l'Alessandria per l'accessione del capitano Virtussino. Ringraziamo Simone per tutto ciò che ha fatto per il Bassano Virtus, sono le parole di Stefano Rosso. È stato bello seguire la sua crescita nel corso degli anni e desideriamo augurargli solo il meglio per il suo futuro. Oggi a mezzo social network è arrivato anche il saluto di Simone Iocolano alla città e ai tifosi. Vi ringrazio tutti, davvero tutti, perché in questi sette anni ognuno di voi mi ha fatto crescere rendendomi quello che sono adesso dentro e fuori dal campo. Grazie, arrivederci Bassano del Grappa, non vi dimenticherò mai. Simone Iocolano arriva all'Alessandria con un contratto di due anni alla vigilia della sfida più suggestiva per i grigi, quella di domani in semifinali di Coppa Italia con il Milan.